Mancano pochi giorni all'inizio del decimo campionato consecutivo di A2 per il Volley Soverato, si inizia in trasferta quest'anno contro Martignacco, Presidente Matozzo. Sicuramente un'emozione particolare questo decimo campionato di Serie A2, un bel traguardo per una società che, come lei ha sempre detto, piccola e a conduzione familiare, ma che sta comunque dando tante soddisfazioni al Volley Calabrese. Parole sante Pietro, io le condivido tutti quanti e non ti nascondo che dieci anni, non che mi commuovano eccessivamente perché sono sempre dieci anni e poi sono diventato vecchietto, quindi ormai la commozione si mette da parte, però sicuramente è un gran bel traguardo di cui io sono orgoglioso di essere Presidente, orgoglioso di avere questa società, orgoglioso di avere questa squadra quest'anno, anche questa volta piena di giovani e piena di gente di esperienza, con la gioia di aver riconfermato Bruno Napolitano che per me era e rimane sicuramente un allenatore di prestigio per questa categoria. Io posso dire soltanto statici vicini perché dieci anni non sono pochi, dieci anni senza un mai sponsor non sono neanche pochini, ma sono molti, pesanti per me, che però voglio dire sopperiamo a queste deficienze che ci sono purtroppo nella nostra terra con l'entusiasmo che ci lega sempre. Una squadra, quella di quest'anno, che non nasconde come ogni anno d'altronde le sue ambizioni d'alta classifica, un gruppo rinnovato con gente esperta abbinata a delle giovani promesse, uno staff tecnico confermato per un campionato che si annuncia comunque lungo e difficile come sono tutti quelli di A2 da diversi anni a questa parte. È vero, è vero, è una cosa veritiera ed è altrettanto vero che l'entusiasmo scatolisce anche dal fatto che oltre alle giovani che abbiamo fatto arrivare a Soverato, che sono sicuramente delle promesse garantite, ci sono anche delle persone di grande esperienza. Vedi Repici, vedi Malchioni, vedi la stessa Gibertini che è un libero molto molto bravo che l'abbiamo visto giocare con altre squadre, vedi l'altra centrale, Caneva, che è sicuramente di esperienza, voglio dire abbiamo allestito una squadra tra esperienze vecchie, diciamo consolidate per i campionati che hanno fatto e queste giovane promesse che sicuramente faranno bene. Io di tutto questo sono ancora una volta fiducioso che noi facciamo un bel campionato, che vogliamo fare un ottimo campionato, ancora meglio di quello dell'anno scorso e le promesse ci sono tutte perché io mi sono anche confrontato con il mio allenatore, col secondo allenatore e con Valenco che sicuramente è una promessa, una chicca aggiunta a questa società dove la valutazione non è così scarsa, è una valutazione oggettiva, concreta di una squadra che può fare bene questo campionato. Per ultimo una notizia importante che io non ho voglia di dare perché credo che non è di mia competenza, ma di competenza di quella struttura comunale, di quelle persone del Comune, Assessori, Presidenti del Consiglio che si sono date da fare perché noi possiamo finalmente giocare una partita, la prima partita casalinga del 13 di ottobre nella nostra piccola struttura, per quanto piccolo è sicuramente un bel palazzetto. Credo che questa notizia la daranno queste persone e io ringrazio fin d'ora, per evitare qualsiasi forma di speculazione, ringrazio fin d'ora quante si sono attivate affinché questo palazzetto potesse tornare ad essere un palazzetto agibile per un totale di 550 persone e ringrazio in primis il Presidente del Consiglio, senza fare polemiche e fare discorsi, lo ringrazio perché si è attivato in una maniera incondizionata, pur non essendo un Assessore del Ramo. Inizia il campionato di A2 del Volle Soverato, domenica prima giornata in trasferta con Martignacco, con coach Bruno Napolitano. Presentiamo questo campionato di A2 che si annuncia ancora più avvincente ed emozionante, oltre che lungo ed intenso, con il Volle Soverato che vorrà recitare anche quest'anno un ruolo da protagonista. Ma è un campionato difficile, come ormai da un po' di anni si verifica, ancora più complicato per quanto ci riguarda per le 20 squadre, quindi due in più rispetto all'anno scorso, e per un girone, insomma un round iniziale che ci vede otto volte su nove volare in aereo, che comunque è una cosa che, come ho detto già in precedenza, va un po' tenuta in conto, perché è chiaro che questo discorso prevede ottimizzazione, programmare, insomma, è una cosa che comunque nell'arco di questo inizio stagione potrebbe avere un peso importante. Il lotto delle contententi è sicuramente, insomma, come al solito, agguerrito, tanti cambiamenti, compreso, insomma, il nostro, che poi alla fine è stato abbastanza radicale, e sicuramente è una partita, il campionato è giocare una partita alla volta, che è stata un po' sempre la nostra filosofia anche l'anno scorso, quella di lavorare giorno dopo giorno, insomma, vivere la settimana giorno dopo giorno in virtù poi della partita che andiamo a giocare la domenica. Presentiamo l'avversario di turno in questa prima giornata, Martignacco in trasferta, una squadra che voi conoscete bene per averla affrontata l'anno scorso, una squadra che ha dato anche del filo da torcere, tra le altre, anche al volley soverato, quindi subito un primo turno impegnativo. Una squadra che ha cambiato tanto, palleggio, posto, poche conferme, centrali, ma comunque una squadra molto ostica, in un campo molto ostico, una squadra ben allenata, molto ben organizzata. Sicuramente come inizio non è un inizio soft, noi veniamo da un periodo di preparazione abbastanza difficile, questo in qualche misura devo sottolinearlo, ma è più una nota di merito nei confronti delle ragazze che comunque dal 19 agosto si sono, tra virgolette, sacrificate in quello che è lo spostamento al Palazzo di Sant'Andrea. Inizialmente il periodo, insomma, doveva essere un periodo iniziale ben più breve, siamo andati a finire quasi a due mesi di preparazione a Sant'Andrea e questo me lo voglio sottolineare perché al di là dell'avversario che andiamo a incontrare e dalla prima gara in trasferta in un campo molto difficile, comunque trovare degli equilibri in questo mese e mezzo, quasi due a dire il vero, non è stato semplice. Brave le ragazze che comunque hanno lavorato con intensità, ci vorrà un po' di pazienza, su questo ne sono convinto, possiamo fare una buona partita, ma non ci fasceremo la testa nel caso in cui il risultato non dovesse essere a nostro favore, è consciente del fatto che il campionato è ancora lungo, che l'avversario è un avversario difficile e che comunque questo periodo di preparazione che abbiamo fatto è un periodo di preparazione sicuramente in cui abbiamo voluto rivedere alcune cose e in cui gli equilibri non sono stati quelli utili a iniziare il campionato. Su questo, ripeto, mi piace sottolinearlo più per spezzare una lancia a favore di queste ragazze che sono veramente sacrificate tanto e ovviamente anche un grazie alla società che ha cercato in tutti i modi di metterci in condizione di allenarsi al meglio possibile. La stessa Sant'Andrea ha fatto veramente tutto quello che poteva fare per metterci nelle condizioni migliori, però è chiaro che le condizioni migliori non erano quelle ottimali, ecco, questo sicuro. E infine, dopo questa lunga ed intensa preparazione precampionato, allora chiudiamo presentando anche la squadra che affronterà questo campionato, una squadra ampiamente rinnovata, con delle giovani di belle speranze, ma che rispetto probabilmente al roster dell'anno scorso vanta qualche elemento di esperienza in più che potrà tornare molto utile. Ma guarda, la squadra è completamente nuova, ma più che altro completamente diversa, nel senso che le dinamiche di questa squadra, almeno da quello che ho potuto vedere, quello che abbiamo potuto vedere in questo mese e mezzo iniziale, sono dinamiche completamente diverse, col quale forse anche in questa direzione ci vorrà un po' più di pazienza, perché gente un po' più esperta che ha meno capacità di adattamento su alcune cose o magari sul mio sistema di lavoro, per cui bisognerà avere un pochettino più di pazienza, ma comunque è una squadra che ha fatto vedere delle cose molto interessanti, che ha lavorato tanto e che comunque potrà fare bene. Per cui da questo punto di vista, al di là di quello che sarà l'inizio del campionato, ribadisco, bisognerà avere un po' di pazienza per cercare di trovare le giuste misure ad alcune cose, le soluzioni ad alcuni problemi che si sono verificati, però alla fine credo che ne potremo comunque uscire fuori bene e potremo comunque recitare un ruolo importante all'interno del campionato.